L'ingegnera Primavera per la Regione, l'ex prefetto Provolo e la ex dirigente de Cesaris per la Prefettura. Su questi tre imputati, tutti assolti in primo grado, si è concentrata l'udienza odierna in corte d'appello all'Aquila del processo sulla tragedia di Rigopiano. Enrico Primavera, all'epoca direttore del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione, con manzioni anche relative alla protezione civile, e secondo il suo legale Lamorgia non poteva avere competenze specifiche sulla carta localizzazione pericolo valanghe. Non aveva proprio alcuna competenza né a sollecitare né a richiedere modifiche rispetto a una CLPV che era in itinere sulla base delle direttive che erano state imposte dal Coreneva. Particolarmente atteso l'intervento dell'avvocato romano Gian Domenico Cagliazza in difesa dell'ex prefetto Francesco Provolo. Poco da ribadire rispetto ai concetti illustrati in primo grado se non pescare a piene mani dalle motivazioni della sentenza definita esemplare del febbraio dello scorso anno. Chi ha letto la sentenza sa che il ragionamento assolutorio è fondato su elementi di fatto insuperabili. Noi sappiamo chi era informato della turbina non disponibile, sappiamo con certezza che nessuna delle persone che avesse questa informazione l'ha trasmessa alla prefettura, sappiamo che in prefettura sin dal 16 c'erano il rappresentante della provincia e la responsabile della polizia stradale, cioè le due funzioni CCS di viabilità che devono riferire al prefetto. Il prefetto non può rispondere di una cosa che nessuno gli ha raccontato. Ed infine sulla ex dirigente della prefettura Ida De Cesari, se il suo legale Daniele Ripamonti ha parlato addirittura di riabilitazione morale per la sua assistita nella soluzione in primo grado e sul famoso ritardo della convocazione del centro di coordinamento a soccorsi. Il giudice dice una cosa diversa, dice che solo formalmente non si è aperto tempestivamente il CCS, ma l'apertura tempestiva del covo allargato dove erano presenti tutti i soggetti che dovevano poi partecipare al CCS, rendeva questo covo allargato del tutto equiparabile al CCS. Questa è la prima argomentazione del giudice. Poi la seconda argomentazione è che comunque non avrebbe potuto fare nulla che potesse scongiurare quello che è accaduto.